Dari assistenza sanitaria ai migranti che giungono sul territorio della BAT attraverso un monitoraggio costante dei centri di accoglienza e garantendo l'attività di screening a tutti gli ospiti delle strutture. Con questi obiettivi è stato siglato un protocollo d'intesa tra Clara Minerva, prefetto della BAT, e Ottavio Narracci, direttore generale della ASLE di Barletta Andriatrani. Il Dipartimento di Prevenzione della ASLE interverrà sulla base delle esigenze espresse dalla Prefettura per effettuare una verifica di rispetto degli standard di accoglienza dei luoghi e dei livelli di tutela sanitaria garantiti agli immigrati. Nello specifico la ASLE BAT provvederà ad eseguire diverse attività di screening, quali sorveglianza della malattia tubercolare attraverso l'Rx al torace, sorveglianza delle malattie dermatologiche, sorveglianza di alcune malattie sessualmente trasmittibili, immunoprofilassi e diagnosi delle malattie infettive con eventuale bonifica dei focolai epidemici, educazione sanitaria per il controllo della diffusione delle malattie infettive in comunità. Garantiremo assistenza e monitoraggio attraverso tutte le nostre strutture, ha detto Narracci. L'assistenza ai migranti è naturalmente un'attività già sostenuta dall'azienda sanitaria, ma attraverso la definizione di procedure di comunicazione e attivazione dei servizi sarà sicuramente possibile farlo in modo più efficiente. La Prefettura comunicherà numeri e generalità di migranti che arrivano sul territorio e noi, conclude Narracci, risponderemo con le procedure già definite.